allora ragazzi siamo pronti per il triplo 85 più ma prima apriamo questo no 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 dai dimmi che non c'ho giocatori da vabbè meno male vediamo sto triplo 85 tutti walk out por favor ok di signori 91 sotto un bapè qualcun altro che di b che di b signori casemiro e muller belli sti pic 85 più nice